Risulta ancora incagliato il traghetto greco Bluestar Patmos, che all'alba del giorno 30 giugno, forse per una manovra errata, si è arenata all'entrata del porto di Ios. Secondo gli ultimi rapporti, ieri con l'ausilio di ben 5 rimorchiatori la maggior parte della nave è libera, e nella giornata di oggi riprenderanno le operazioni di disincaglio, dopo aver effettuato nuove misurazioni e valutazione dei sommuzzatori allo scafo della nave. Grazie